Il medico con la macchina del medico Spettare un secondo O Bruscio O Bruscio non la sente proprio? No, non la sente proprio 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 Occhio! Occhio! Sergio! E' Maggi, Maggi secondo Claudio siamo qui No, non la sente proprio 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 Alza le mano! No, non la sente proprio 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 So, non la sente proprio No, non la sente piena No, non la sente proprio No, non la sente proprio No, non la sente proprio No, ne sente proprio Abbiamo ragu-pange는 No, non la sente proprio No, non la sente proprio Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.